ciao sono daniele vincenti della vinci professionale e volevo raccontarvi in pochi secondi la nostra esperienza con la video animate noi abbiamo un business abbastanza complesso erogando dei servizi ad alto valore aggiunto per commercialisti e consulanti del lavoro e ci trovavamo nella necessità di dover spiegare quello che facevamo in maniera molto semplice direi quasi in stampatello e dopo aver fatto un po di scouting in giro per società di comunicazione e quant'altro ci siamo imbattuti nella video animate devo dire che ci siamo trovati benissimo tant'è che adesso faremo un secondo video su un'altra area di business la video animate è un sistema di produzione di un video in cartone animato che decodifica i messaggi complessi anche quelli commerciali o di marketing che li ripropone all'utente finale in maniera molto molto semplice molto molto appetibile e sfiziosa e devo dire che abbiamo trovato non solo dei video maker che quelli va bene come dire se ne possono trovare a bizzeffe ma una una disponibilità soprattutto una competenza sia in fase di marketing e di copywriting e questo non è comune nel nostro paese soprattutto per chi come la nostra società cercava un approccio di marketing della risposta diretta per cui io mi sentirei di consigliarvi a chiunque debba descrivere un business semplice in maniera semplice questa società ciao ciao